Avvii il rendering. Scegli la tipologia dell'immagine e la dimensione di stampa. Scegli lo sfondo. Usi il processore per renderizzare al posto della scheda grafica. Escludi l'illuminazione proveniente dai materiali emissivi. Disattivi o attivi il filtro rumore. Disattivi o attivi l'esecuzione del rendering per riquadri. Lasci invariate le altre opzioni. Sono già impostate per ottenere buoni risultati. Verifichi l'illuminazione della scena ed esegui il rendering. Calciate il rendering. Calciate il renderio con la scena ed esegui il rendering. Il renderio aggiungo il rendering per i elementi della scena. Calciate e la scena ed esegui. Grazie a tutti.